L'olio di semi di zucca è noto per i suoi numerosi benefici per la salute, che vanno dal supporto alla salute prostatica al miglioramento della salute cardiovascolare. Di seguito presento alcuni benefici dell'olio di semi di zucca che ne sostengono la reputazione come superalimento versatile e benefico. Salute prostatica. L'olio di semi di zucca è noto per la sua capacità di promuovere la salute prostatica negli uomini, aiutando a ridurre i sintomi dell'ingrossamento della prostata e supportando la funzione urinaria sana. Riduzione dell'infiammazione. L'olio di semi di zucca contiene proprietà anti-infiammatorie che possono aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo, il che può essere benefico per le persone con malattie infiammatorie croniche. Miglioramento della salute cardiovascolare. È stato dimostrato che l'olio di semi di zucca aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, il che può contribuire alla salute del cuore e dei vasi sanguigni. Regolazione ormonale. L'olio di semi di zucca può aiutare a bilanciare gli ormoni nel corpo, il che può essere benefico per le donne che sperimentano sintomi di squilibrio ormonale, come la sindrome premestruale. Miglioramento della salute delle ossa. L'olio di semi di zucca è ricco di zinco, un minerale essenziale per la salute delle ossa, che può aiutare a prevenire l'osteoporosi e mantenere le ossa forti. Supporto alla salute del sistema immunitario. L'alto contenuto di antiossidanti nell'olio di semi di zucca può aiutare a rafforzare il sistema immunitario, proteggendo il corpo da malattie e virus. Proprietà antiparassitarie. È stato dimostrato che l'olio di semi di zucca ha proprietà antiparassitarie, il che può essere benefico per trattare le infezioni parassitarie nel corpo. Miglioramento della salute della pelle. L'olio di semi di zucca è ricco di acidi grassi e antiossidanti che possono aiutare a mantenere la pelle sana, morbida e idratata. Riduzione del rischio di cancro. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può essere associato a un minor rischio di alcuni tipi di cancro, come il cancro alla prostata. Sollievo dai sintomi della menopausa. L'olio di semi di zucca può aiutare ad alleviare i vampate di calore e altri sintomi associati alla menopausa nelle donne. Miglioramento della salute mentale. Gli acidi grassi presenti nell'olio di semi di zucca possono avere effetti benefici sulla salute mentale, aiutando a ridurre l'ansia e migliorare l'umore. Supporto alla salute degli occhi. L'olio di semi di zucca è ricco di antiossidanti come la luteina e la zeaxantina, che sono benefici per la salute degli occhi e possono aiutare a prevenire malattie oculari legate all'età. Riduzione del rischio di diabete. Alcuni studi hanno suggerito che l'olio di semi di zucca può aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue, il che può essere benefico per prevenire il diabete di tipo 2. Miglioramento delle prestazioni sportive. L'olio di semi di zucca può aiutare a migliorare la resistenza e ridurre il tempo di recupero dopo l'esercizio, il che può essere benefico per gli atleti e le persone attive. Supporto alla salute dei capelli. I nutrienti presenti nell'olio di semi di zucca possono aiutare a rafforzare i capelli e promuoverne la crescita, riducendo la caduta dei capelli e migliorando nell'aspetto generale. Riduzione del rischio di malattie neurodegenerative. Alcuni studi hanno suggerito che gli antiossidanti presenti nell'olio di semi di zucca possono avere effetti protettivi contro malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson. Miglioramento della digestione. L'olio di semi di zucca può aiutare a promuovere una digestione sana e alleviare problemi digestivi come la stitichezza e il gonfiore. Riduzione del rischio di calcoli renali. Si è suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può aiutare a prevenire la formazione di calcoli renali, grazie al suo contenuto di magnesio e altri minerali benefici per la salute renale. Supporto alla salute polmonare. Alcuni studi hanno suggerito che l'olio di semi di zucca può avere effetti benefici nella prevenzione e trattamento di malattie polmonari come l'asma e la bronchite. Miglioramento del sonno. I nutrienti presenti nell'olio di semi di zucca possono avere effetti rilassanti che possono aiutare a migliorare la qualità del sonno e alleviare l'insonnia. Riduzione del rischio di anemia. L'olio di semi di zucca è una buona fonte di ferro, un minerale essenziale per prevenire l'anemia e mantenere livelli salutari di globuli rossi nel sangue. Supporto alla salute renale. Il contenuto di antiossidanti e minerali nell'olio di semi di zucca può essere benefico per promuovere la salute renale e prevenire le malattie renali. Riduzione del rischio di malattie epatiche. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti protettivi contro malattie epatiche come la steatosi epatica non alcolica. Miglioramento delle prestazioni sessuali. Si è suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca possa avere effetti benefici sulle prestazioni sessuali maschili, grazie alla sua capacità di migliorare la circolazione sanguigna e supportare la funzione erettile. Riduzione del rischio di disturbi autoimmuni. Alcuni studi hanno suggerito che gli antiossidanti presenti nell'olio di semi di zucca possono avere effetti protettivi contro disturbi autoimmuni come l'artrite reumatoide e il lupus. Supporto alla salute infantile. L'olio di semi di zucca può essere benefico per promuovere la crescita e lo sviluppo sano nei bambini, grazie al suo contenuto di nutrienti essenziali come vitamine, minerali e acidi grassi. Riduzione del rischio di allergie. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti protettivi contro allergie alimentari e intolleranze, grazie alla sua capacità di modulare la risposta immunitaria. Supporto alla salute durante la gravidanza. L'olio di semi di zucca può essere benefico per le donne in gravidanza, in quanto fornisce nutrienti essenziali per lo sviluppo fetale e può aiutare ad alleviare sintomi come le nausee mattutine. Riduzione del rischio di malattie respiratorie. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti protettivi contro malattie respiratorie come il raffreddore comune e l'influenza, grazie alla sua capacità di rafforzare il sistema immunitario. Supporto alla salute infantile. L'olio di semi di zucca può essere benefico per promuovere un sistema immunitario forte e prevenire malattie comuni nei bambini, come raffreddori e influenze. Riduzione del rischio di disturbi dell'umore. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti benefici sull'equilibrio emotivo e prevenire disturbi dell'umore come la depressione e l'ansia. Supporto alla salute orale. L'olio di semi di zucca può essere benefico per promuovere una buona salute orale, grazie alla sua capacità di ridurre l'infiammazione e prevenire infezioni gengivali. Riduzione del rischio di disturbi del sonno. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti benefici sulla qualità del sonno e prevenire disturbi del sonno come l'insonnia e gli incubi. Supporto alla salute infantile. L'olio di semi di zucca può essere benefico per promuovere uno sviluppo cognitivo sano nei bambini, grazie al suo contenuto di acidi grassi essenziali importanti per lo sviluppo del cervello. Riduzione del rischio di disturbi digestivi. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti benefici sulla digestione e prevenire disturbi digestivi come la sindrome dell'intestino irritabile. Supporto alla salute durante l'allattamento. L'olio di semi di zucca può essere benefico per le donne che allattano, in quanto fornisce nutrienti essenziali per la produzione di latte materno e può aiutare ad alleviare sintomi come la stanchezza. Riduzione del rischio di disturbi metabolici. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti benefici sul metabolismo e prevenire disturbi metabolici come la resistenza all'insulina. Supporto alla salute durante la menopausa. L'olio di semi di zucca può essere benefico per alleviare i sintomi associati alla menopausa, come le vampate di calore e i cambiamenti dell'umore. Riduzione del rischio di disturbi circolatori. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti benefici sulla circolazione sanguigna e prevenire disturbi circolatori come le varici. Supporto alla salute durante l'andropausa. L'olio di semi di zucca può essere benefico per alleviare i sintomi associati all'andropausa negli uomini, come la diminuzione del desiderio sessuale e i cambiamenti ormonali. Riduzione del rischio di disturbi endocrini. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti benefici sull'equilibrio ormonale e prevenire disturbi endocrini come l'ipotiroidismo. Supporto alla salute durante l'andropausa. L'olio di semi di zucca può essere benefico per alleviare i sintomi associati all'andropausa negli uomini, come la diminuzione del desiderio sessuale e i cambiamenti ormonali. Riduzione del rischio di disturbi endocrini. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti benefici sull'equilibrio ormonale e prevenire disturbi endocrini come l'ipotiroidismo. Supporto alla salute durante la perimenopausa. L'olio di semi di zucca può essere benefico per alleviare i sintomi associati alla perimenopausa, come i cambiamenti ormonali e le vampate di calore. Riduzione del rischio di disturbi ginecologici. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di olio di semi di zucca può avere effetti benefici sulla salute ginecologica e prevenire disturbi come i fibromi uterini.